Carissimi amici della Fogonatomia, buona domenica, eccoci qua, queste mattine i capelli freschi di letto e oggi vi presentiamo un po' di letto stiletto, eccolo qua, stiletto che è il nuovo rasoio di Golfellas Smile, una novità della quale io sono stato omaggiato, ringrazio Nicola Donghi pubblicamente, perché in fase di sviluppo, in fase di sviluppo, vista, diciamo, chiamiamola così, c'è un pelo sulla camera, la mia esperienza in rasoio mi è stato chiesto un feedback sul prototipo, quindi in parte, diciamo, una piccola parte, diciamo, di consigli di offerti anch'io. Quindi ringrazio Golfellas Smile per farvi provare questo rasoio. Andiamo a vedere, la confezione è tutto in un cubo, quindi particolare, no? Particolare. E come potete leggere qua, il primo rasoio di essere disegnato, sviluppato e realizzato completamente in Italia, utilizzato esclusivamente i materiali precidati con CNC, cioè con macchina di precisione. Poi plastic free, tutto quanto, si apre, no? Vedete come faccio un unboxing e vedete le istruzioni e un panno per lucidarlo, perché è un oggetto, diciamo, lucido, un oggetto. E il piccolo foglio con le istruzioni, che è interessante. E poi il rasoio, eccolo qua, stiretto. Eccolo qua. Il rasoio stiretto, qua nella versione 0.5, perché sono tre versioni, questa è da 0.5, se ve lo faccio vedere bene. Non è, come alcune hanno scritto, un controllato di persona uguale a LineChanger, è diverso. Eccolo qua. Guardate con queste, con questo manico barber pole che si va a sfumare, no? Verso il finale e verso la base. Questo pesa 110 grammi. Qui vedete bene la testa. La testa è quella, posso far vedere anche in maniera approfondita. Qua ecco la novità che c'è un inserto di ammortizzazione. Vedete? Un materiale che potrebbe essere silicone, ammortizza il serraggio. Il pettine, eccolo qua, con le marchiature TGS 0.5. Spero che si veda tutto bene. Ecco, vedete, questi che secondo me sono stati da alcuni incriticati, ma sono un valore aggiunto. I segni della lavorazione, perché vuol dire che ogni pezzo è stato lavorato a macchina singolarmente. Quindi questo è un segno di qualità, se vogliamo, no? Non è un difetto. Mentre qualcuno aveva ipotizzato fosse un, diciamo, difetto. Io lo armo con le astra blu. Come sempre con un rasoio, queste qua sono le migliori. Sono styless, tranquille, del buon taglio. Insomma, la mette ideali per provare rasoio nuovi. Questa è una barba di due giorni e mezzo. Intanto armiamo il rasoio e poi facciamo un po' di chiacchiere su quello che è il rasoio in sé. classico meccanismo di montaggio della lama con questo pezzo che ammortizza la serrata. Eccolo qua. rasoio armato. Potete vedere l'esposizione 05. Il gap 05. Allora, vediamo un po'. Io leggo, perché qui bisogna essere precedenti perché sono cose tecniche. Nasce dall'esclusività cooperazione italiana con Fella Smile e minuterie, metalliche e rocchetti. Uno sviluppo che durò ben tre anni. e se ne parlava già da tempo. Infatti, quando mi è stato proposto di provare il prototipo era tanti mesi fa. Ovviamente non si poteva dire, chiaramente, evidente. Era un segreto industriale. primo rasoio di sicurezza costruito in Italia deve essere lavorato esclusivamente con macchine CNC di ultima generazione. Partendo da una barra d'acciaio inox AISI 316Ti. Questo è il nome dell'acciaio. AISI o AISI 316Ti. Però non basta, cioè c'è di più, perché si è divestito in uno speciale metallo, mantello metallico, quindi un involucro, chiamato PVD, acronimo di Physical Vapor Deposition. Questa tecnologia è utilizzata per depositare film metallici sottili su diversi tipi di risultati. Il processo avviene all'interno di camera sottovuoto dove vengono evaporati metalli che si può depositare, come per esempio zirconio, cromo e titanio. La finitura viene quindi creata tramite un processo fisico che non solo dona un logico caratteristiche superiori di qualsiasi trattamento e garantisce anche un investimento perfettamente sostenibile ad impatto ambientale di tutto quanto. E poi fa vedere le caratteristiche, se le faccio leggere direttamente dal PVD, che sono eco sostenibilità, tecniche che io, onestamente, non capirei. Quindi ogni singolo il rasoio viene lucidato a mano, per garantire il migliore risultato possibile. Appunto i micro difetti di natura estetica fanno parte di tutti i rasoi artigianali e questo non c'è nessuna novità. insomma. Allora vediamo però perché il rasoio deve radere, c'è più che essere, no? Allora vediamo. Io oggi sono una natura d'Elite, questa è una stiletta, quindi diciamo che potrei rappresentare a livello italiano come qualità dei materiali, come Elite, quindi io uso Floris, se non devo finirlo. Adesso usiamo un Omegaevo, ecco qua, il mio vecchio Omegaevo, in versione marmo, io preferisco a Roma, però ogni tanto cambiamo perché sono di annoio. sciacquo me, sciacquo il pennello, sciacquo il viso, sciacquo le mani, sciacquo tutto. Ecco qua. Eccoci qua. Allora, questo lo andiamo a esaurire praticamente quasi, non lo so se lo esaurire perché ce ne avevo poco. lo metto, lo metto nel pennello, eh sì, lo andiamo a esaurire. Io mi ho esaurito una crema, eh ragazzi. Cresa tantissime per esaurirla, però era ora dopo, cioè vuol dire dopo un po' anni. vuol dire, è venuta un po' sulla maglia. Allora, questa mi è venuta un po' sotto. Allora. Molta, guarda in bocca. Molta veramente bene, fin troppo. guardate che roba. Guardate che roba. in bocca. Allora. E andiamo. Alla prova del 9, lo stiletto, astra blu, qua c'è un angiome non c'è più, scuole molto bene. Comfortevole. Vedete come la passata viene in maniera naturale. Almeno per ora. Dà confidenza, quindi devi stare attenti. Perché la confidenza non deve mai essere troppa. Vedete. 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 rompere con i residui di crema ma guarda dove è arrivata qui la sopracciglia avrà un po bene cerchiamo il viso e andiamo di seconda massata questa non è l'elite ma è la numero 89 spero si veda non trovai l'elite che poi la mia referita era questa e comunque sa il fatto suo d'altronde floris o florisse alla francese è sempre una garanzia stiamo parlando di marche di altissimo livello allora andiamo gli obliquo e contropelo scorre che è una palla da biliardo e ha disintegrato si va per dire ovviamente una barba di due giorni e mezzo qui contropelo tradizionale ricordo che stiamo parlando della versione 0.5 quindi è la più soft che però è quella che io ho consigliato quando mi è stato chiesto quando mi è stato chiesto quando mi sono detto che l'obiettivo era un grassoio che si potesse usare tutti i giorni ma questo devo dire che mi ha colpito perché la prima volta che l'ho usato ho visto che dovevo rimorginare l'operazione in cui ho tolto questo angioma rubino la barbara di 4-5 giorni quindi me l'ha tolta via tranquillo quindi va benissimo eccoci qua cosa volete di più perfetto allora cerchiamo il diesel ovviamente l'abboniamo un po' di tonico non fa mai male il mio solito tires anche perché a marzo sono 47 bene mentre il viso asciuga vedete non mi ha lasciato redpoint non mi ha lasciato niente né barba né redpoint andiamo quindi ad analizzare questo rapporto fra stiletto 0,5 vedo se vedo e astra blu ottimo feeling scorrevolezza assoluta taglio preciso devo dire che è un rasoio che oltretutto con i materiali di cui è fatto al prezzo a cui viene venduto mi sembra che sia 150 euro erotti euro non ricordo più vale quello che costa assolutamente cioè voglio dire se questo rasoio fosse americano lo pagheremmo di più sicuramente poi l'estetica va molto a gusti a me questo questo barber polo ad esempio piace questo sfumato perché vedete come sfuma nel finale che non è netto a me piace molto questo particolare ad esempio però comunque ben fatto insomma il progetto ci ha messo tre anni sono orgoglioso e ringrazio appunto Nicola Donghi perché mi ha detto un giorno mi ha accontentato mi ha detto ma tu che devi dire rasoio ci dai un feedback per capire se siamo in una strada giusta io diedi le mie indicazioni e alcune di queste sono state condivise quindi così a me come ad altri sicuramente però mi fa piacere vedere che poi alla fine uno confrontando si vede che alla fine arriva a risultati molto simili crema floris ormai fu crema floris finita ottima veramente consigliabile una crema da barba facile da montare semplice non non ci niente da dire sempre in casa floris passiamo all'after shave eccolo qua questo è l'elite questo è l'elite mi piace di più questo è l'elite che Rocco Contini mi dice essere paciuli io pensavo se vedi pensate che naso che ho base paciuli deve poi eleganza al top qui sta finendo mi era prima poi fare scorta e bruciarsi gli stipendi non si scherza con floris il pennello il pennello ha fatto ma avete visto ampiamente sono vere però io preferisco Roma è un ottimo sintetico ci mancherebbe ancora eccolo qua una versione marble si chiama Omega Evo eppure io preferisco Roma che mi devo dire come dico la Roma comunque il suo lavoro lo fa chi non tradisce però ognuno tra i due Omega ma la stessa marca io ho una come dire una predilezione per il Roma che è un po' più un po' più duretto magari però sulla mia pelle mi piace di più sentirlo comunque questo è un ottimo pennello fa il suo lavoro punto chiuso finiamo con un tocco di di classe no scusate cosa sbagliate sono uguali l'Ore Toilette eccolo qua sempre qua sempre Floris Elite Ore Toilette e la domenica non può che iniziare meglio benissimo signori allora c'è questa novità quindi questo rossoio italiano spero di averlo presentato bene ringrazio ancora ripeto per l'omage Nicola Donghi e ma soprattutto non per l'omage ma soprattutto per avermi coinvolto diciamo nel progetto chiedendogli appunto un feedback sulle varie versioni sull'efficacia abbiamo fatto un confronto provando varie soluzioni e io ho dato il mio feedback magari in piccolissima parte magari è stato recepito e in effetti il risultato è secondo me molto molto soddisfacente grazie a tutti buona domenica a tutti e buona barba a tutti grazie a tutti